Drago Freebooter, un canale illegale, ma questo video è bello Oggi mi sono svegliato con il cazzo girato Perché sono arrivati i miei genitori in casa e mi hanno portato una bella denuncia Quindi oggi mi sono svegliato con una bella denuncia in mano Ho letto questa denuncia, era una diffida, una querela Mi sono svegliato con una bella denuncia, una bella diffida Sono quattro pagine e mezzo scritte da un avvocato Me le sono lette tutte, devo dire, anche se mi ero appena svegliato Quindi la soglia di attenzione era molto bassa Ma me le sono lette tutte con una certa tranquillità Appartengono a una ragazza che è venuta in live da me Che ha deciso di querelarmi Perché non era consapevole del fatto che era guidata in cuffia Cioè che Denelmond era guidato in cuffia quando ho fatto la guidata in cuffia con lei E quindi mi ha praticamente fatto una querela Perché lei non era consenziente, teoricamente Cioè lei secondo, quello che ha scritto, questo povero signore Perché la lettera, veramente, se potessi ve la fari leggere Perché fa davvero ridere, fa davvero ridere la lettera Ve lo garantisco, è molto molto comica E niente Io mi dispiace che abbia speso i soldi Così Cioè mi dispiace un po' perché È una lettera assolutamente Boh, non so Basata su niente più totale Ma poi mi faceva ridere che nella lettera c'era proprio scritto Lo streamer Grimbaud Simone Buratti E poi quando si rivolgeva a me Quando diceva a me Diceva Il Buratti Sta roba era molto molto divertente E Rubino lo chiamava il John Infatti vi giuro Cioè sembrava quasi una presa per il culo Perché Cioè Parlava Denamon era il denaro Cioè Mi sembrava veramente una presa per il culo Però era una denuncia seria Una denuncia seria Molto molto comica questa cosa Se andrò in carcere Sappiate che è perché Ho guidato in cuffia una ragazza Che non era Consapevo di essere Di star per essere Controllata Bracca miseria Bravo, complimenti Eh lo so È la concorrenza Dal contributo è la concorrenza